Il treno Reggio Express, 21-17, di Trenord, delle ore 11.40, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 7. Ferma, a, Peschiera del Garda, De Senzano, Brescia, Rovato, Chiari, Romano, Treviglio, Pioltello Limito, Milano Lambrate. Il treno Alta Velocità Frecciarossa, 97-15, di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 11.44, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, a, Vicenza, Padova, Venezia Mestre. I livelli X-Tupit e Business sono in coda al treno, su questo treno è disponibile il servizio di restonazione. Il treno Italo Alta Velocità, 99-99, di nuovo trasporto viaggiaturi, proveniente da Brescia. è diretto a Napoli Centrale, delle ore 11.49, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, a, Bologna Centrale, Firenze Campo d'Arte, Roma Termini. L'ambiente Smart è in coda al treno. Il treno regionale veloce, 27-11, di Trenitalia, delle ore 12.11, per Venezia Santa Lucia, è in partenza dal binario 3. Ferma, a, Verona Porta Vescovo, San Bonifacio, Vicenza, Padova, Venezia Mestre.